Fido Cecere, buon volo turbolendo questo qua culo, male male abbiamo fatto un po' il tagadang però siamo partiti dopo un'ora e mezza di un'ora e mezza di attesa perché io ci aspetta un bel tagadang eh? ci aspetta un bel tagadang 8.40 sono qua aereo? 8.40 ah ok non è 11.30 11.30 uo aglio ma che c'è stato tra l'alto? come c'è stato tra l'alto? no, ma l'8.40 sei tu? si, fa vedere il biglietto ma ce l'hai tu? no, tu ce l'hai tu il biglietto il mio, il tuo, il tuo staglio aspetta ragazzi prendi un po' fuori eh? vedi un po' fuori c'è il biglietto l'alto il biglietto l'alto il biglietto il biglietto il biglietto il biglietto il biglietto allora ma dove c'è scritto l'orario? no ho scelato pure le 8.40 wow aglio e sono le 8.40 E ora ci aspetteranno per Chicago Io già stavo tranquillo Vabbè ragazzi, già la prima disavventura See you